Sei sveglio? Non male, eh? Ehi, vacci piano, piano! Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me. Ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Goodsprings. Spero che non ti scocci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro da ago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata? Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene. La roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Vediamo se riesci a stare in piedi. Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è... Devi essere quello che stava... Un altro... Un altro... Un altro... Grazie a tutti 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 Dove andiamo? Amico? Grazie a tutti Ehi nessuno Ehi nessuno Ciao Grazie a tutti Buongiorno 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 Cesar Hai Buongiorno tollerando la presenza dei cittadini della sconfitta RNC. Forte di un vasto arsenale di bombe improvvisate e armi rubate, la Powder Gang del Volt-19 tormentò per anni la zona contaminata del Mojave. I cittadini dell'RNC erano gli obiettivi primari e subivano sempre la sorte peggiore. E così il viaggio della ragazza corriere è giunto alla fine. Almeno per ora. Nel nuovo mondo della zona contaminata del Mojave, i combattimenti continuarono. Ci furono altri spargimenti di sangue e molti vissero e morirono, così come avevano sempre fatto, anche nel vecchio mondo. Perché la guerra... la guerra non cambia mai. 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 Il viaggio di sangue è un po' di spargimenti di sangue.